Ciao a tutti e benvenuti su About Biology. All'interno degli scorsi video abbiamo parlato di sostanze. Oggi parleremo di cambiamenti di stato e curve di riscaldamento. Le sostanze a temperatura ambiente non si presentano tutte nello stesso stato fisico. L'acqua è liquida, l'alluminio è solido, mentre l'ossigeno e l'anidride carbonica sono dei gas. Lo stato fisico però non è una condizione permanente. Le sostanze possono passare da uno stato fisico all'altro se si modificano le condizioni di temperatura o di pressione. Quando una sostanza subisce un cambio di stato va a modificare sensibilmente il suo aspetto, ma conserva inalterate le sue proprietà chimiche e alcune proprietà fisiche. In particolare i valori delle temperature di ebollizione e diffusione non si modificano se la pressione è costante. A pressione costante ogni sostanza ha una propria temperatura di ebollizione e una propria temperatura di fusione. Nel caso dell'acqua pura, per esempio, la temperatura di fusione misurata in condizioni normali, ovvero a livello del mare e con la pressione a un'atmosfera, è pari a 0 gradi Celsius e corrisponde alla temperatura alla quale coesistono acqua e ghiaccio. La temperatura di ebollizione è invece a 100 gradi Celsius. La temperatura di fusione, TF, detta anche punto di fusione, e la temperatura di ebollizione, T e B, detta anche punto di ebollizione, sono due proprietà intensive delle sostanze, che rimangono costanti per tutta la durata della trasformazione e che non dipendono dalla massa del campione. Oggi di molte sostanze conosciamo temperature fisse che vengono utilizzate per distinguerne una dall'altra. Le varie temperature fisse delle sostanze variano al variare della pressione. Se la pressione esterna si abbassa, come accade per esempio in montagna, l'acqua bollea una temperatura inferiore a 100 gradi Celsius. Al contrario, a pressioni elevate, la temperatura di ebollizione dell'acqua aumenta oltre i 100 gradi Celsius. Anche la densità è una proprietà specifica delle sostanze, ma il suo valore, come abbiamo visto, varia in relazione alla temperatura, alla pressione e allo stato fisico del materiale. Nelle stesse condizioni una sostanza ovviamente ha sempre la stessa densità. La stessa cosa però non accade per le soluzioni. L'acqua salata, anche a parità di condizioni, non ha sempre la stessa densità perché la quantità di acqua e sale miscelate possono variare da caso a caso. Chiaramente i cambiamenti di stato richiedono o liberano energia, solitamente sotto forma di calore. E per studiare le relazioni tra calore e temperatura durante i vari passaggi di stato, i chimici costruiscono, per ogni sostanza, una curva di riscaldamento. Per elaborarla poniamo la sostanza allo stato solido in un recipiente e la si riscalda mantenendo costante la pressione. Misuriamo poi la quantità di calore fornito, le variazioni di temperatura durante il riscaldamento e i cambiamenti di stato. Infine riportiamo su un grafico, che è la curva di riscaldamento, i valori di temperatura riscontrati in funzione del calore fornito. Le curve di riscaldamento delle sostanze hanno un andamento caratteristico, che è diverso da quello delle curve di riscaldamento delle soluzioni. Esaminando la curva di riscaldamento dell'acqua distillata, possiamo notare che la temperatura del ghiaccio aumenta mano a mano che si fornisce calore, finché non si raggiunge la temperatura di fusione di 0 gradi Celsius. Durante la fusione la temperatura rimane stazionaria e questo anche se continuiamo a fornire del calore. In questa fase, che è detta sosta termica, il calore fornito non viene utilizzato per aumentare la temperatura, ma per trasformare tutto il solido in liquido. Si definisce calore latente di fusione la quantità di calore utilizzata durante la sosta termica. Per fondere un chilogrammo di sostanza, ogni sostanza possiede un proprio calore latente di fusione. Quando la fusione è completa, la temperatura riprende a salire fino al valore della temperatura di ebollizione, ovvero 100 gradi Celsius. Anche durante l'ebollizione la temperatura si mantiene costante. Il calore fornito per trasformare un chilogrammo di liquido in vapore è detto calore latente di vaporizzazione. Il calore latente di fusione e quello di vaporizzazione, come le temperature di fusione e di ebollizione, sono proprietà fisiche intensive che variano da sostanza a sostanza. Per capire dove va a finire il calore latente, che letteralmente significa nascosto, dobbiamo considerare che cosa avviene a livello particellare. Le particelle di un solido, a qualunque temperatura, sono molto vicine tra loro, ma non sono ferme e vibrano continuamente. Quando queste oscillazioni diventano così ampie da rompere la struttura ordinata del solido, le particelle diventano libere di muoversi, il solido fonde e diventa liquido. Il calore latente di fusione serve a spezzare le forze di attrazione tra le particelle del solido e permette loro i movimenti di scorrimento. Allo stesso modo, il calore latente di ebollizione, assorbito a temperatura costante, serve a spezzare le forze di attrazione che tengono vicine le particelle del liquido, che diventano così indipendenti e passano allo stato gassoso. Il calore latente di fusione e quello di vaporizzazione sono diversi da sostanza a sostanza, perché dipendono dalle forze di coesione e dalle proprietà delle particelle. Quindi più intense sono le forze di coesione, più crescono i valori del calore latente di fusione e quello di vaporizzazione. Le curve di riscaldamento sono utili per distinguere soluzioni e sostanze. Le curve di riscaldamento delle soluzioni hanno infatti tre caratteristiche peculiari. Nei passaggi di stato la temperatura non si mantiene costante, sia durante la fusione sia durante l'ebollizione. Ma sia durante la fusione che durante l'ebollizione la temperatura continua a salire. Un altro punto è che la soluzione inizia a fondere a una temperatura inferiore rispetto al solvente puro e tanto più bassa quanto maggiore è la concentrazione del soluto. Come terzo punto la soluzione inizia a bollire a una temperatura superiore rispetto al solvente puro. Inoltre una soluzione più concentrata inizia a bollire a una temperatura più elevata. Le soluzioni hanno questo comportamento perché contengono delle particelle di sostanze diverse che hanno temperature di fusione e di evoluzione differenti. Benissimo detto ciò abbiamo concluso questo approfondimento sui cambiamenti di stato e le curve di riscaldamento con cenni al modello particellare. Se vuoi darci un aiuto a far crescere questo canale ti consiglio di iscriverti in modo da non perderti nessun video. E inoltre se vuoi entrare a 360 gradi nel mondo biologico e scientifico seguici su Instagram e Telegram. Hai il link che trovi qua sotto in descrizione. Grazie per l'attenzione e a presto da About Biology. Grazie per l'attenzione e a presto.